Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. Apriamo parlando di cronaca partendo da Caltanissetta dove gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto una 26enne autore di diversi scippi e rapine in città ai danni di vittime vulnerabili. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. La Polizia di Caltanissetta ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pregiudicato 26enne senza fissa dimora di nazionalità gambiana. Secondo le indagini il giovane ha commesso nel centro storico di Caltanissetta diversi scippi e rapine ai danni di vittime particolarmente vulnerabili quali donne, minori e anziani in un arco temporale compreso tra aprile e settembre di quest'anno, destando particolare allarme sociale nel territorio nisseno. Tutti gli episodi sono accomunati dal medesimo modus operandi. Le vittime venivano seguite in strade isolate per lo più in orari notturni da un soggetto che approfittando dell'oscurità e dell'assenza di passanti sottraeva loro improvvisamente la borsa o si faceva consegnare con l'uso di minacce o violenza denaro, cellulari e altri oggetti di valore. Grazie alle analisi dei sistemi di videosorveglianza installati lungo le vie della città, per gli investigatori della squadra mobile è stato possibile risalire all'identità del cittadino straniero per il quale, come detto, è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere. Operazione della Guardia di Finanza di Catania, si parla in questo caso di frodi fiscali. I finanzieri hanno effettuato 15 misure cautelari in diverse province siciliane e anche in altre parti d'Italia. Il servizio. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania con 29 indagati su un presunto sistema di somministrazione fraudolenta di mano d'opera e di frode fiscale tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. I provvedimenti cautelari prevedono il carcere per due degli indagati, gli arresti domiciliari per altri quattro e una misura interdittiva per i restanti nove. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione dei redditi infedele e fraudolenta e indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti. Il provvedimento cautelare del GIP di Catania, emesso su richiesta della Procura, dispone anche il sequestro di 28 società e di beni e disponibilità finanziarie per oltre 8,2 milioni di euro. L'ordinanza è stata eseguita da 120 militari della Guardia di Finanza del Comando di Catania nelle province del capologo etneo di Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Cosenza, Vibo Valencia, Napoli, Roma, Viterbo e Varese, con il supporto dei locali omologhi comandi provinciali e del primo gruppo etneo. Cambiamo decisamente argomento, parliamo del carovoli, un problema che si ripropone in Sicilia con l'avvicinarsi di una festività, in questo caso le festività natalizie, e allora interviene nuovamente la regione siciliana. La mia giunta regionale ha stanziato in questi giorni ulteriori 10 milioni per fare in modo che durante le festività natalizie chi parte o chi arriva in Sicilia ottenga lo sconto del 50% sul prezzo del volo. Vale anche per i siciliani non residenti nell'isola per ragioni di lavoro. È evidente che si tratta di un provvedimento forte, tampone, che consentirà di non essere surclassati sulla logica del carovoli. Lo ha dichiarato il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Mi auguro, ha aggiunto il governatore, che sia l'ultima volta in cui siamo costretti a farlo. Speriamo di eliminare questo scandalo perché è inaccettabile che ciò accada nel 2024. Sono risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate per altri fini, che vengono stornate per destinazioni di carattere sociale, ha affermato il presidente Schifani. Parliamo adesso dei medici, nello specifico i medici italiani, che sono tra i meno pagati in Europa. Questo ci dice perlomeno un'analisi della Federazione Europea dei Medici Salariati. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Nel periodo compreso fra il 2015 e il 2022, i salari dei dirigenti medici in Italia sono calati del 6,2% e la spesa dei contratti a tempo indeterminato è diminuita del 2,8%. Lo indica l'analisi condotta dalla Federazione Europea dei Medici Salariati, che la presenta in un libro bianco. L'analisi è basata sui dati forniti dai sindacati e dalle associazioni mediche di 21 paesi europei. Emerge così che l'Italia non valorizza economicamente i suoi professionisti sin dal percorso di formazione specialistica. Il quadro italiano in rapporto all'Europa appare molto allarmante, anche considerando gli ultimi dati che evidenziano come nel periodo 2015-2022 i salari dei dirigenti medici in Italia siano calati del 6,2% e la spesa dei contratti a tempo indeterminato diminuita del 2,8%, commentano la presidente della FEMS, Alessandra Spedicato, e il segretario nazionale del sindacato, Anao Assomed, Pierino Di Silverio. Nel dettaglio, la remunerazione dei medici italiani in formazione specialistica in base al potere di acquisto si pone al quintultimo posto in Europa, al di sopra solo di Spagna, Grecia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Paesi come Olanda, Germania, Austria e Svezia mostrano invece sin dall'inizio della carriera un forte investimento nella remunerazione per fidelizzare e valorizzare il professionista. Il dato nuovo è però che accanto alla consolidata posizione di Germania, Francia, Austria e Olanda si affacciano paesi che investono molto nei professionisti sanitari anche per arginare il fenomeno migratorio ed evitare il deserto bianco. Per i sindacati occorre un cambio di rotta immediato e anche con questo obiettivo il 20 novembre saremo a scioperare in piazza a manifestare. Le ragioni economiche non sono però le sole per cui i dirigenti medici sono spinti a lasciare gli ospedali. Le condizioni di lavoro sono penalizzate da mancate assunzioni, scarse possibilità di carriera, 12% arriva ai livelli apicali di cui solo il 2% donne, inficiate da scelte politiche che non premiano il merito e poi mancato rispetto dei contratti sottoscritti, deficitaria sicurezza dovuta al crescere delle aggressioni, denunce civili o penali. Crescono gli attacchi cyber, più 110% negli ultimi 5 anni. Nel mirino soprattutto la sanità. Negli ultimi 5 anni nel mondo c'è stato un incremento degli attacchi cyber del 110%. Nel primo semestre 2024 si è verificato il 13% degli attacchi portati a termine in 5 anni, il numero di incidenti più elevato di sempre. Sono i dati del rapporto Clusit, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Allarme sulla sanità è il settore più colpito a livello mondiale. In Italia gli incidenti rilevati in sei mesi sono comparabili in numero a quelli del 2023. In generale nel mondo, secondo l'associazione, nei primi sei mesi del 2024 gli attacchi cyber sono cresciuti del 23% rispetto al semestre precedente. Sono 9 ogni giorno. Quasi un incidente su 5 nel primo semestre 2024 è stato rivolto alla sanità che risulta il settore più attaccato a livello mondiale con il 18% degli incidenti. In Italia nel settore la crescita rispetto allo stesso periodo del 2023 è pari all'83%, confermando la preoccupante tendenza che vede un significativo aumento dell'attenzione da parte dei cyber criminali nei confronti di un comparto particolarmente critico. In generale nel mondo nel primo semestre del 2024 si è verificato il 13% degli attacchi portati a termine nei cinque anni. In totale si sono registrati 1.637 attacchi contro i 230 dello scorso anno e i 139 del 2019. L'81% ha avuto impatti gravi in linea con lo scorso anno, oltre un terzo ha avuto un impatto critico in calo rispetto allo scorso anno a favore degli eventi di severity alta in aumento dell'8% rispetto al 2023. In Italia lieve calo nel numero degli attacchi rispetto allo stesso periodo del 2023, oltre alla sanità ha colpito anche il settore manifatturiero. Il cyber crime, che caratterizza le attività volte al guadagno economico, è stato la prima causa degli attacchi nel mondo nel primo semestre 2024. Nel primo semestre 2024 si conferma la preponderanza di vittime americane. Il 29% degli attacchi è stato invece sferrato verso l'Europa. Oltre un terzo degli attacchi nel mondo è stato causato da malware. A Giardini Naxos il sindaco Straguzzi ha conferito la cittadinanza all'ex direttrice del parco archeologico Naxos Taormina, Gabriella Tigano. Per noi c'era Mauro Romano. Sindaco Giorgio Straguzzi, oggi un importante evento. La cittadinanza onoraria a Gabriella Tigano. Perché viene data questo riconoscimento a un personaggio così importante, ricordiamolo, direttrice del parco archeologico di Taormina e Giardini Naxos? Per l'impegno profuso dalla dottoressa Tigano, in collaborazione con l'amministrazione, per l'usufruire questo parco da parte dei cittadini. La seconda cosa che mi preme sottolineare è che mi sono interessato anche moltissimo del Castello di Schisò. Il Castello di Schisò deve essere nel futuro sicuramente un punto fondamentale per il turismo e per la creazione di una ricettività turistica e congressuale che sarà molto importante per il Paese. Ho ritenuto di accogliere e di condividere le motivazioni che hanno portato ad una proposta da parte della Giunta Comunale di conferimento della cittadinanza onoraria alla dottoressa Tigano, in quanto è una motivazione assolutamente con alti profili di merito, di dedizione, di abnegazione e di impegno al proprio ruolo di direttrice del parco archeologico Naxos Taormina. In particolare mi ha colpito il rimarcare la sua capacità di sostenere un dialogo fra le istituzioni. Il dialogo, a mio avviso, è una capacità rara tra i dirigenti pubblici ed è l'espressione massima di quella capacità di incarnare il buon andamento dei pubblici uffici attraverso un'azione amministrativa efficace, efficiente ed economica. Gabriella, come direttrice del parco di Naxos Taormina, ha sempre manifestato questa volontà importante di dialogo con la nostra comunità, aprendo le porte del parco e facendolo diventare, come abbiamo avuto modo di dire nelle motivazioni, la casa comune dei cittadini. Non potevamo che salutarla con un riconoscimento oggettivo, una cittadinanza onoraria di una città che lei ha amato e che la ama e con cui siamo certi potremo continuare a collaborare. Voglio dire alla città che sono veramente commossa, felice e orgogliosa di aver ricevuto questa cittadinanza perché, come diceva lei, anche chi mi ha preceduto, quelle che hanno fondato il parco, cioè Paola Pelagatti e Maria Costanza Lentini, hanno ottenuto questa onorificenza, quindi io sono veramente commossa e felice di riceverla oggi qui a Giardini Naxos e che il mio lavoro sia stato apprezzato mi riempie ancora di orgoglio. Importante iniziativa anche ad Acireale, dove apre il centro di odontoiatria sociale presso i locali della Caritas Diocesana, un centro che verrà incontro alle esigenze di persone con difficoltà economiche. Giovedì 14 novembre verrà inaugurato il nuovo centro di odontoiatria sociale ad Acireale alla presenza di Monsignor Antonino Raspanti. Il centro si trova nei locali adiacenti alla Caritas Diocesana ed è il frutto di una collaborazione tra la Caritas, guidata dal direttore Donorazio Torna Bene, e la società Rocami SRL di Giarre con amministratore protempore Massimo Sorbello. Grazie a un protocollo d'intesa, la Caritas ha concesso incomodato d'uso gratuito i locali e le attrezzature odontoiatriche di sua proprietà, mentre la gestione del centro sarà affidata alla società Rocami SRL che si avvarrà di personale specializzato, tra cui odontoiatri, igienisti dentali e tecnici odontotecnici. Il nuovo centro è pensato per supportare le persone che, pur lavorando onestamente, faticano a sostenere le spese sanitarie sempre più elevate per la crescente privatizzazione del settore. Funzionerà come uno studio dentistico privato, garantendo così la sua sostenibilità economica, ma offrirà anche prestazioni odontoiatriche a costi ridotti per gli utenti seguiti dal centro di ascolto diocesano della Caritas. Per le persone in condizione di povertà assoluta, invece, il protocollo prevede la completa gratuità delle cure. Il centro intende inoltre stipulare convenzioni con case di riposo, case famiglia, istituti religiosi e centri di accoglienza per agevolare l'accesso alle cure odontoiatriche anche per queste categorie di utenti. Ed ora alcuni consigli per la spesa. Vediamo quali sono gli alimenti convenienti da mettere in questo carrello d'autunno. Con il freddo via libera alle clementine di buona qualità e con prezzi irregolari nonostante l'aumento della richiesta. A seconda dei calibri si va da 1,30 euro al chilo ai 2 euro al chilogrammo. Lo fa sapere la borsa della spesa di BMT e Italmercati in rete di imprese realizzata con consumerismo no profit, bussola settimanale per acquistare prodotti stagionali e convenienti. Visto il periodo in aumento la richiesta di castagne con prezzi all'ingrosso ancora regolari dai 3 ai 5 euro al chilo nonostante la domanda in crescita. Listini stabili anche per i cachi emiliani che non hanno subito variazioni per il maltempo tra 1,20 euro e 1,40 euro al chilogrammo per i più piccoli fino a 1,80 euro e 2 euro al chilogrammo per i più grandi. Prosegue anche la campagna delle mele in linea con i prezzi dello scorso anno mediamente 1,60 euro al chilogrammo. Dopo Halloween, come ogni anno, diminuisce la domanda per la zucca con listini sempre più bassi tra 0,50 e 1,50 euro a seconda della varietà. Per quanto riguarda i prodotti ittici invece la riapertura delle attività di pesca nel mar Tirreno ha portato ad un aumento dei quantitativi e a un ribasso dei prezzi. Continuano ad essere molto abbondanti le mezzancolle intorno agli 8 euro al chilogrammo quelle dell'Adriatico e ai 20 euro al chilogrammo invece dal Tirreno più grandi e di una qualità maggiore. Sempre convenienti le vongole lupino dai 3 ai 5 euro al chilogrammo fino agli 8 euro al chilo per le più grandi. E infine abbondano anche i cefali con prezzi tra i 2 e 3 euro al chilogrammo e i calamari italiani con 22 e 23 euro al chilogrammo. Con il primo freddo infine arrivano le prime zuppe di pesce per questo è cresciuta la richiesta della razza intorno ai 4,50 euro al chilogrammo. Infine è molto conveniente la palamita, pesce azzurro disponibile tutto l'anno da acquistare però da luglio a dicembre essendo fuori dal suo periodo di riproduzione. E prima di chiudere come di consueto la rubrica 100 secondi a cura di Giacomo Cagnes oggi si parla di Cronaca. In Italia in quanto a delinquenza non ci facciamo mancare nulla ci sono i mafiosi criminali consorziati in gruppi e tra questi c'è chi spara chi commette rapine chi spaccia le detti di droghe e chi si occupa di estorsioni e di furti di ogni genere senza contare chi commette truffe e varie violenze ai danni dei cosiddetti soggetti fragili. Carabinieri, polizie e guardie di finanza sono impegnati quotidianamente nel contesto di chi non rispetta le regole della legalità a tutela di tutte e tutti alzando come si dice spesso il tiro oggi grazie all'ennesima operazione della guardia di finanza che con l'impegno di oltre 120 militari ha scoperto un giro di frodi fiscali con fatturazioni false finiscono nelle maglie della giustizia i cosiddetti colletti bianchi imprenditori con il vezzo di raggirare le leggi per ottenere illeciti profitti 28 le società finite nel mirino grazie alle indagini dei finanzieri coordinate dalla procura di Catania con ben 29 indagati per alcuni di loro sono scattate anche varie restrizioni 2 direttamente in carcere 4 agli arresti domiciliari e 9 con misure di interdizione i reati ipotizzati a vero titolo sono associazione per delinquere emissioni di fatture per operazioni inesistenti dichiarazione dei redditi infedele e fraudolenta oltre alla indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti il GIP di Catania su richiesta della procura e tenere ha disposto il sequestro di tutte le società ed è bene in disponibilità per oltre 8 milioni e 200 mila euro i controlli sono stati eseguiti in diverse province in Sicilia a Catania, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa e Trapani e poi a Cosenza, Vibo, Valencia, Napoli, Roma, Viterbo e Varese Grazie a tutti